Benvenuti a un nuovo video di Boccamone 3 della mia città senza regole venite Questo che palazzo c'è in questo qua? Questo è il municipio di Soverato Fai vedere la colonna della Madonna, mostra la colonna, ecco la colonna della Madonna Ok ora gira e saluta i tuoi fans Dai salutaci, gira e saluta dai Se il video è piaciuto Iscriviti al canale mio e attivate la campanella così Simba e contento E arriviamo al prossimo video e al prossimo video Bella a tutti